Voleva dimostrare la sua innocenza. L'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa. Mi sembra impossibile che si sia ucciso. Così il suo difensore, l'avvocato Domenico Di Tano, spiega lo stato d'animo dell'agente penitenziario che si è suicidato ieri, impiccandosi alle grate dell'isolata chiesa di San Tommaso, a Roccasecca, in Ciociaria. La guardia carceraria era accusata di aver violentato ripetutamente la figlia 14enne, quando rimaniva da solo in casa con lei. La presunta violenza era sconosciuta alla famiglia e alla madre, ed era stata scoperta qualche mese fa attraverso un tema in classe, forse affidato di proposito agli studenti dalla professoressa di lettere, che sospettava qualcosa di anomalo nel comportamento della sua alunna. La madre della 14enne, convocata dalla preside e dalla docente di italiano, aveva asporto denuncia. La donna aveva anche raccontato di un episodio analogo, ma non andato in porto, accaduto nel passato remoto alla sua prima figlia, ora 28enne. Proprio per questa situazione di possibile pericolo in famiglia, alla gente era stato ordinato di non avvicinarsi mai ai congiunti a meno di un chilometro, ed aveva dovuto indossare il braccialetto elettronico. Se non ci sarà parere contrario dal medico legale, domani pomeriggio ci saranno i funerali della guardia suicida. Al di là della colpevolezza dell'uomo che non è ancora stata accertata, esiste una responsabilità di quelle istituzioni che sapevano? La scuola, gli inquirenti, la stampa e forse anche la famiglia? Beh, direi che intanto ha subito un cortocircuito questa vicenda, un cortocircuito impressionante che ci impone a tutti di fare un passo indietro. Responsabilità tutte da vedere, ma che riguardano anche il passato e il presente. Se c'è qualcuno che sapeva qualcosa e non aveva il coraggio di parlare, se c'è qualcuno che avendo saputo qualcosa e lo ha gestito in maniera eccessivamente superficiale, se c'è stato un giudizio drammatico, terribile, o anzi un pregiudizio che ha schiantato le persone. Ecco, insomma, ci sono forse molte responsabilità complesse e difficili da decifrare. Oltre all'uomo che si è ormai tolto la vita, esiste un altro soggetto fortemente vulnerabile in questo momento, è la figlia che tra l'altro è ancora minorenne. Dobbiamo considerare molte cose. Una è questa, che quando una ragazza o una bambina decide di denunciare un abuso subito da una persona che conosce, da un familiare, si scatenano dentro molti sensi di colpa, molte ambivalenze, molti dubbi e una vicenda così dolorosa, così improvvisa, non può che generare ulteriori sensi di colpa. Dunque siamo di fronte ad una situazione di estrema fragilità di una ragazzina.